buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi ragazzi parlerò dell'ipnosi dcs chi sono io che il sottoscritto il sottoscritto nasce tanti e tanti anni fa scettico diffidente impaurito perché no dell'ipnosi in genere che si vedeva alla tv l'ipnosi da spettacolo oppure nei film mi regalano un libricino di pnl e da lì è nato il mio viaggio del salmone sono passato dall'ipnosi vera e professionale sono passato all'ipnosi conformista e commerciale di milton erickson deve elman braia west tutti ottimi ipnoterapeuti fino ad arrivare all'ipnosi dcs vera e professionale di los angeles beverly hills i grandissimi dottoressa rina brunini e professore dottor michelangel garai io chi sono io sono l'insieme la sintesi l'ultimo dei moicani mi ha definito una signora di roma ok l'erede di questa grande arte scienza che l'ipnosi dicesse vera e professionale che proviene direttamente da los angeles beverly hills california stati uniti ok per cui ho coniato il metodo dcs perché dal 2008 ad oggi il sottoscritto è cambiato da così a così dal buio alla luce e grazie all'ipnosi e soprattutto all'auto ipnosi dcs vera e professionale e parliamo di casi concreti e non e non di fuffa e non di cose astratte che tu tocchi ma non prendi perché c'è molta ignoranza in giro ci sono molti cocodè come dice mia figlia anzi lo dicevo quando aveva quattro anni i cocodè sono quelli quando arrivi in un pollaio senti tutte le galline che fanno cocodè cocodè per la paura perché tutte le altre stramazzano e quindi c'è tutto come le pecorelle che seguono il greggio io ripeto sta parlando una persona che alla fine era ero scettico infatti ero sono e sarò come santo maso se non vedo se non tocco non credo potevi stare mille anni a parlarmi e ti capisco perché anch'io un tempo ero come te se tu sei qui adesso ad ascoltarmi a dire ma che dice ma che vuole ma che fuso ti capisco perché anche quando vedevo giugas casella in tv oppure altri soggetti su internet youtube un po mi facevano paura incudevano paura ecco perché la mia mission quando ho visto l'ipnosi vera e professionale della dottoressa rina brunini utilizzata in primis a favore di mio padre salvando mio padre da un ictus un ischemia cerebrale fulminante che lo teneva a letto da più di un anno e mezzo quasi due e dove i medici tradizionali dicevano che non c'era nulla da fare tranne dargli l'anticoagulante bene e lì la mia vita è cambiata ragazzi la dottoressa brunini da los angeles beviri su skype mi ipnotizzava una volta tre volte la settimana e mi ha cambiato la vita era il 2008 ha salvato mio padre ho fatto l'assistente per ben due anni sempre online con mio padre nella stanza facendolo vivere per dieci anni altri in ottima salute zoppicava con il bastone ma stava più che bene e prima aveva piaghe di decupito stava per morire non ne voleva sapere era accaduto una depressione cronica eccetera eccetera e quando scrissi un email in tutto il mondo anche in italia in inglese francese e in tutte le lingue tutti risposero medici psicologi e psicoterapeuti e italiani internazionali americani anche guru molto blasonati conosciuti dissero non si può fare nulla neanche con l'ipnosi per l'ictus di suo padre e mentre stavo per gettare la spugna come ho scritto anche sulla mia fan page su facebook ipnosi ecco che vedo in lontananza un email della dottoressa rina prunini di los angeles dell'associazione i prologi associati associati punto com la quale mi scrive sino qui allo seggio estrattiamo tanti casi di paralisi con l'ipnosi vera e professionale e lì sono rimasto incredulo scettico un po così guardami ok perché perché avevo letto un sacco di libri nel frattempo io ipnotizzavo da anni da autodidatta avevo tolto dolori insonnia depressione panico ansia memoria debole vista udito avevo fatto tutto di più ok ma non ero mai arrivato a questi casi gravissimi di ictus e quando provai ad ipnotizzare mio padre non ci riuscì ebbi pure paura ve lo dico proprio schiettamente ma quando la dottoressa lina brunini davanti ad un computer ciofeca giungo con una connessione ciofeca più di 11 mila chilometri di distanza in 30 minuti ipnotizza mio padre mentre si fa il latte o il tè sento cucchiaino nella tazza e poi dice rocco mio padre non partecipava non vedeva luci montagne non parlava non ascoltava non sentiva niente un vegetale un peso morto e dice rocco surgia e tambula alzati e cammina mio padre si alza e inizia a camminare lì io veramente rimango così guarda non ci credevo non ci credevo come se fosse ieri eppure sono passati quasi 12 anni diciamo no 2008 ecco la grande potenza della mente dell'essere umano che purtroppo o per interesse o senza interesse molti poteri forti come faceva anche l'antica roma ingabbiano perché non vogliono che qualcuno mosso da una missione sacrosanta possa andare oltre il seminato dei pastori e non va bene ragazzi perché se c'è un qualcuno che è un metodo diverso dall'ipnosi paura l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi conformista e commerciale che si vede in giro e che anch'io ho provato attenzione ma poi sono andato oltre invece di dire beh vediamo di cosa si tratta voglio fare il tuo corso bla 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 che cosa fanno inizia l'invidia e non va bene ok oltretutto il metodo della dottoressa rina brunini il professor dottor michelanghelgarai molto che poi è diventato mio eccetera eccetera e con le mie sperimentazioni su di me su centinaia e centinaia di persone nel mondo funziona anche per chi non vuole quanta gente conosci che non vuole essere aiutata quanta gente tuo figlio tuo marito tua moglie che stanno davanti alla tv per vari motivi depressione cronica paura infelicità e che hai voglia tu a dire andiamo dallo psicologo x y z andiamo dal medico non ne vogliono sapere perché aspettano la morte perché sono pieni di sensi di colpa che qualcuno gli ha trasmesso bene con il mio metodo metodo di cesso tu puoi aiutarli se segui le istruzioni alla lettera come ti insegnerò che sono facili sono a prova di nonno a prova di pigro a prova di idiota come sempre dico non devi credere al sottoscritto devi provare 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 per cui quando qualcuno dice ma la sua ipnosi è uguale all'ipnosi di x y z di caio sempronio e provano tutto di più pnl ipnosi conversazionali prosi di milton ericsson prosi di brion waste ipnosi di tom silver ipnosi di development no 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 non ha uguali nel mondo non assomiglia neanche all'ipnosi telepatica neanche all'ipnosi a distanza neanche all'ipnosi non verbale neanche all'ipnosi di mesmer niente niente un'ipnosi veramente perché l'ipnosi ricordati prima ciò che non dicono i guru dell'ipnosi neanche del mondo l'ipnosi prima di essere una scienza perché riconosciuta dall'associazione medica mondiale nel 1958 come medicina alternativa della chiesa nel 1847 con papo pio nono ricordati l'ipnosi art e l'artista in questo caso il professore dottore michelanghelgarai la dottoressa dina prunini e il sottoscritto che poi ha preso ha studiato ha fatto suo tutto di più e ha sperimentato perché la maggior parte il 99,9 per cento dei guru sul 100 guru anche della stessa ipnosi 99 sanno soltanto mettere le persone sulle serie camminarci sopra bla 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 ma non hanno sperimentato su di se h24 nel sottoscritto che si ipnotizza dal 2008 ad oggi h24 c tutte le 24 ore io sono ipnotizzato come in questo momento adesso direi ma che caspita stai dicendo e sono ipnotizzato ricordati è possibile ci sono delle 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 suggestioni eccetera eccetera doc potenti trasparenti che ti possono far utilizzare il tuo potere mentale al 101 per cento e non come oggi dove tu lo utilizzi siano al 5 10 per cento in qualsiasi settore attenzione quindi sia che tu faccia l'imprenditore l'operaio il cala casalinga eccetera eccetera fammi tutte le domande del caso vista la mia fan page su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino visita il mio sito internet www.ipronologyassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese e fai share condividi con amici parenti perché perché vuoi essere quel quid con la molla che gli può cambiare la vita visita anche i miei profili instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cese del dottore claudio saracino e condividi 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 ciao